Gara folle ed irreparabile quella che è successa in Turchia stamattina per il quarto ultimo gran premio del mondiale Formula 1 2020. In parte è successo quello che doveva succedere, Hamilton aveva la possibilità di chiudere il settimo titolo del mondo e lo ha chiuso, ma è quello che è successo durante la gara e per tutto il contesto dell'Istanbul Park che questa gara è definibile folle e irreparabile perché in Turchia tendenzialmente non ha mai piovuto nelle gare che ha ospitato il mondiale Formula 1, non in questo caso perché fin dal sabato, fin dal venerdì e anche per la domenica un'equazione si è abbattuto su Istanbul e dunque sull'autodromo dell'Istanbul Park andando a cambiare letteralmente quelli che erano i valori in campo per quanto riguarda la Formula 1 2020, tanto è vero che già la qualificazione del sabato ha visto delle cose veramente inenarrabili con le macchine rosa primo e terzo con stroll in pole, Verstappen seconda a rosicare male perché per due decimi con una gomma di svantaggio non è riuscito a mettersi prima in una gara che avrebbe potuto vincere, Hamilton e Bottas molto male per le standard della Mercedes, sesto Hamilton nono Bottas, le Ferrari sono partite ancora una volta indietro e dunque c'erano tante possibilità di gara interessante, gara che è diventata ancora interessante prima della partenza perché fino a 20 minuti prima della partenza della Turchia è ancora piovuto e dunque la pista era in condizioni veramente precarie, l'asfalto dell'autodromo tour che è stato veramente fatto di recente e non ha drenato evidentemente le condizioni della pioggia. Tutto questo per dire che la gara è risultata folle, ci sono stati tanti sorpassi, risultati veramente incredibili, non è cambiato però il vincitore perché ancora una volta va a vincere lui sembra in una gara veramente di forza a dimostrazione che il Piatale Mercedes quest'anno può fare veramente quello che vuole e mette ancora una volta la sua firma in una gara dove evidentemente dà ancora dimostrazione di essere un fuoriclasse. Hamilton vince e si aggiudica il settimo titolo del mondo, il quarto consecutivo. Come vediamo da questa schermata il primo titolo lo vinse nel 2008 con la Merclara in Mercedes, gara famosa di Brasile dove Massa tagliò per primo il traguardo e fino a che Hamilton non superò Glock all'ultima curva, il brasiliano era campione mentre Hamilton no. E poi dal 2014 c'è il 2020 nel interrenio Mercedes dell'era turbo ibrida, Hamilton ha vinto praticamente tutti i titoli del mondo possibili e immaginabili tranne il 2016 dove perse con Rosberg dal 2017 al 2020, parliamo di quarto titolo del mondo consecutivo e questa probabilmente è una delle vittorie più belle di Lewis Hamilton in realtà della carriera, sono 94 per lui e dunque ancora una volta suona God Save the Queen ma è come ha vinto perché come vediamo dall'altra immagine che vi voglio proporre Hamilton è arrivato sul traguardo con delle coperture veramente arrivate al limite quasi sulle tele. Hamilton nel primo stint di gara nelle gomme diciamo da bagnato intermedio nel primo stint di gara Hamilton ha fatto veramente fatica con le gomme da bagnato estremo il pilota inglese non si è trovato preso ha preso una caterba di secondi al giro dai primi in particolare Lance Stroll che nonostante una macchina inferiore e un talento inferiore rispetto ad altri piloti si scopre evidentemente un mago della pioggia Hamilton poi va a cambiare le coperture al giro 6 e arriverà fino in fondo con queste coperture che vedete tant'è vero che anche nella strada dell'immagine potete notare che il battistrada di fatto è praticamente liscio e Hamilton ha fatto 52 giri con le stesse coperture è veramente un qualcosa di allucinante un qualcosa che io non avevo assolutamente mai visto a memoria segno che sarà l'assetto sarà anche la macchina più forte ma su queste condizioni evidentemente conta ancora una volta il pilota e Hamilton è ancora una volta seppur a 35 anni il pilota più talentoso che ci sia in questa formula 1 attuale certo gli ultimi due titoli del mondo li ha vinti contro nessuno e tra poco vedremo la classifica del campionato però se c'era un modo incredibile di concludere questa gara evidentemente è la vittoria di Hamilton con delle gomme assolutamente finita onestamente io dalle prove mi aspettavo tutti i vincitori tranne evidentemente lui e Hamilton soprattutto vedendo i primi sei giri di gara perché evidentemente Hamilton aveva preso quasi 30 secondi dal leader e invece pian piano ha rimontato ed è arrivato addirittura a vincere con 20 secondi di vantaggio su un pilota di cui parleremo dopo peraltro con una sosta in meno i primi due ci sono comunque tanti delusi in particolare la Red Bull che poteva vincere assolutamente questa gara ne aveva al passo se c'è un pilota invece che gode è appunto lui Hamilton e per una volta anche tutta la Ferrari che in queste condizioni pazzesche si ritrova competitiva segno che evidentemente in queste condizioni la scudente di Maranello ha performato alla grande è comunque il tempo di celebrare lui Hamilton ancora una volta ha eguagliato Schumacher anche nel numero dei titoli del mondo l'ha già superato come numero di vittorie e vedremo cosa combinerà nelle ultime tre gare del mondiale che di fatto saranno una passerella per tutti nella gara pazza nella gara folle nella gara dell'irreparabile comunque della turchia c'è gloria comunque per degli outsider che in realtà mi aspettavo vincitori anche se Hamilton evidentemente non aveva la stessa idea gli outsider li troviamo sul podio di questa competizione c'è una Ferrari sul podio e torna una Ferrari sul podio ed è Sebastian Vettel terzo in mezzo c'è Sergio Perez con la macchina rosa che ha una storia incredibile perché Perez sarà scaricato proprio dalla macchina rosa l'anno prossimo che diventerà Ston Martin quindi macchina verde presumibilmente tra l'altro per far posto a quel Sebastian Vettel che oggi è stato battuto da Sergio Perez in una gara quasi involata perché è vero che Hamilton ha vinto con i uni di vantaggio su Perez ma dietro lo stesso Perez Leclerc, Vettel, anche Albon si stavano giocando veramente il podio poi la Red Bull l'ha molto buttata via e ne hanno approfittato Vettel e Leclerc in particolare Leclerc era davanti a Vettel prima delle ultime curve poi sbaglia il Monegasco e Vettel dall'esterno lo passa e si giudica un podio veramente insperato per quello che oramai è un outsider in questa Formula 1 2020 di Hamilton invece non si può dire che non sia un outsider outsider probabilmente Perez tra storie interessanti appunto perché Perez non ha ancora un sedile per il 2021 e vedendo alcuni nomi che saranno in pista l'anno prossimo nel 2021 il fatto che Perez rischia di non esserci alcuni piloti si fa abbastanza riflettere per questa Formula 1 del 2021 è una gara che appunto vero consacra Hamilton come campione del mondo per la settima volta ma è un Gran Premio di Turchia che va di fatto a ribaltare le lotte per le posizioni dopo la terza nella classifica generale lo vediamo qui perché appunto Hamilton ha stravinto il campionato del mondo con 110 punti di vantaggio su nessuno cioè Valtteri Bottas che era il suo diretto avversario terzo è Max Verstappen che finisce sesto in classifica nella gara di Turchia e per il resto se la si lotta alla grande perché Perez in questo secondo posto sale a 100 punti puliti in classifica davanti alle Clerc e Ricciardo che hanno fatto rispettivamente quarto e decimo gli altri piazzamenti comunque li vediamo appunto il podio è Hamilton primo, Perez secondo e Vettel terzo in quarta posizione c'è appunto come abbiamo detto l'Eclerc con una ottima pensazione di squadra in realtà della Ferrari tutta perché sul bagnato evidentemente scudere Maranello ci ha capito qualcosa e tra l'altro oggi era il primo Gran Premio che Binotto non era fisicamente in Turchia perché è rimasta Maranello a lavorare e la Ferrari ha fatto terza e quarto segno che evidentemente sono segnali divini che Binotto è l'uomo sbagliato evidentemente in questa situazione no in realtà non è vero non è Binotto il principale responsabile però la dice lunga sul fatto che appunto Binotto è stato lì tutto l'anno va a Maranello a lavorare evidentemente e sviluppare la macchina dell'anno prossimo non si è ancora capito e la Ferrari di punto in bianco fa terza e quarto con un'unione particolare è vero però è sempre terzo Fettel e quarto l'Eclerc quinta posizione per Carlo Sainz Jr che con la mia McLaren fa comunque un'ottima prestazione sul bagnato rimonta poi anche le Red Bull che fanno abbastanza pietà Verstappen sesto ne parleremo dopo settimo Alexander Albon che poteva addirittura puntare al podio e poi è andato indietro nella seconda fase di gara un po' come il suo compagno di squadra ma in questo caso non per colpe sue ottava posizione per Lando Norris con l'altra McLaren che dunque fa un'ottima prestazione di squadra con quinto e un ottavo posto nona posizione per Lance Stroll che è uno dei delusi di questo campionato o meglio di questa gara perché appunto il canadese partiva primo in pole position e poi dopo aver cambiato le gomme non ci ha capito più niente è andato nel pallone ed è finito in nona posizione porta a casa soltanto due punti e poteva fare veramente il colpaccio il pilota canadese ultima posizione appunti lo abbiamo detto Daniel Ricciardo con la Renault che fa quello che può la Renault sul bagnato non benissimo rispetto magari ad altri contender come Ferrari e Red Bull parentesi sugli italiani Antonio Giovinazzi si ritira purtroppo per lui un problema tecnico prima della prima safety car virtual di questa competizione peccato per il nostro portacolori lo rivedremo comunque nelle due gare di Bahrain è una gara che appunto ha tanti risvolti ripeto io non mi aspettavo mai Lewis Hamilton vincitore seppur Hamilton sia sempre stato storicamente fortissimo sotto l'acqua evidentemente non nel bagnato estremo perché appunto nelle condizioni di full wet si è preso un'eternità da Lance Stroll il che la dice lunga sulla qualità di Stroll su queste condizioni di bagnato estremo e sulla difficoltà di Hamilton evidentemente l'assetto Hamilton intermedie e Mercedes è andato veramente alla grande e ha fatto una sosta in meno rispetto a tutti gli altri tranne Perez perché anche Perez ha fatto una sosta in meno definito secondo e per il resto si parla di almeno due soste in realtà il deluso sempre di Mercedes è sempre quest'uomo Valtteri Bottas che appunto come dicevo nella volta scorsa è il pilota che ha il premio sfiga perché a Imola ha preso un tetro di Vettel e ha compromesso la gara che poteva vincere qui al primo giro in condizioni improbabili si gira una Mercedes se indovinate chi è ovviamente quella di Bottas figuriamoci si gira Hamilton neanche per sbaglio e dunque il povero Bottas dovrà ancora una volta accontentarsi dell'eterno status di seconda guida impotente e inerme al cospetto di un fuoriclasse comunque che è Lewis Hamilton in realtà non è Valtteri Bottas comunque il mio deluso del giorno ma è quello che gli succede nella classifica del campionato ovvero Max Verstappen perché appunto la Red Bull aveva le potenzialità per vincere in particolare Verstappen poteva assolutamente giudicarsi questo gran premio di Turchia cosa che invece non è successa e principalmente per colpe dell'olandese perché appunto in un attacco azzardatissimo su Sergio Perez in un momento in cui la Red Bull ne aveva assolutamente di più della macchina rosa Verstappen si gira in un attacco improbabile sul messicano finisce in testa a coda e poi da lì sarà una gara evidentemente compromessa per l'olandese che ripeto poteva vincerla e invece finisce soltanto al sesto posto il driver del giorno non è Lewis Hamilton troppo scontato è Sebastian Vettel perché evidentemente è giusto celebrare il pilota tedesco una volta che fa una bella gara in una stagione obiettivamente disastrosa e fallimentare il carretto Ferrari ormai come l'ho soprannominato io in queste gare si è riscoperta una macchina competitiva sotto l'acqua poteva addirittura piazzarle due sul podio in Turchia e invece Perez di fatto rovina la festa dei tifosi della Ferrari in realtà è anche Leclerc che la rovina perché evidentemente ha fatto un errore nelle fasi finali della gara in ogni caso Vettel si riscatta è un riscatto morale evidentemente battere il suo compagnolo di squadra più quotato evidentemente in queste condizioni dà probabilmente tanta fiducia per l'anno prossimo evidentemente a Sebastian Vettel che evidentemente occupa una posizione in classifica non consona al suo valore comunque è un podio che appunto può servire al pilota tedesco non salva la stagione disastrosa della Ferrari in ogni caso è giusto dare merito a un pilota che partiva dodicesimo in prova ed è arrivato terzo soprattutto con uno scatto alla partenza suntuoso superando chiunque dall'esterno e giocandosela anche con Verstappen che è riuscito a malapena a superarlo in pista dunque per una volta complimenti a Sebastian Vettel per lui il premio del driver del giorno complimenti ancora una volta a quest'uomo Louis Hamilton invece per il settimo titolo del mondo piloti eguagliato Michael Schumacher superato invece nel numero di vittorie per 94 volte contro il 91 del tedesco per l'inglese risuona ancora una volta Gav Save the Queen e questo racing podcast finisce qui fatemi sapere cosa ne pensate dunque su questa gara dell'irreparabile in Turchia una gara pazza che ha regalato tante emozioni nonché un titolo del mondo assegnato seppur molto scontato perché appunto Hamilton da due anni corre da solo perché Bottas per tutto il bene del mondo non si può considerare un avversagno degno secondo me di Louis Hamilton in ogni caso 7T del mondo in 94 gara e non le vinci per caso 307 punti per il premio inglese contro gli altri che sono anche qui after the music il racing podcast finisce qui il prossimo appuntamento domani è sempre alle 19 per quanto riguarda un altro racing podcast in questo caso MotoGP Gran Premio di Valencia che ha segnato il titolo del mondo e saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo al prossimo video